Ed eccoci con l'unica nota rosa dei cinque continenti, Paola Moreira che ha preparato per noi una delizia tropicale. Allora Paola, intanto io ho seguito parte del tuo intervento e tu hai posto l'accento e l'attenzione sulla nutrizione diversa tra i bambini italiani e i figli tuoi che nutri secondo la tradizione naturalmente tropicale. Quali sono queste differenze? Perché tu hai detto una frase molto importante. La differenza è che noi brasiliani, anche se siamo molto poveri, perché ci stanno i bambini e i poveri, le mamme cercano di sempre spingere il succo di frutta naturale. Cosa che in Italia vedo sempre queste briche, questa cosa che sono sempre industrializzata e questo a me, io e i miei figli hanno vissuto qui con me per quasi dieci anni. E poi sono trasferito in Brasile che adesso sono tutti già grandi. E anche oggi cercano di mangiare e bere sempre il succo di frutta naturale, l'insalata, molta verdura, molti legumi, perché questo secondo me è più importante della carne, della pizza, dei dolci. Poi certo, c'è sempre il piacere di mangiare queste cose. In Brasile le mamme si svegliano la mattina a pensare che cosa fanno per le colazioni? Un bel succo di frutta naturale, quindi mangiamo sempre e beviamo molta frutta alla colazione. Non so se voi siete andati mai in Brasile, ma nei abberghi, nelle posate, c'è sempre questa ricchezza di frutta. E non è vero che noi abbiamo più frutta d'Italia, no, è uguale, però è un costume, come vi spiego, non so se cerco bene le frasi. L'abitudine di mangiare e bere sempre cose fresche. Un esempio, se tu vai a Rio de Janeiro, se tu arrivi lì, c'è questo locale che c'è sempre questa frutta esposta, banana, arancia, cocomero, tutto lì esposto e tu scegli. Voglio un tris di frutta, voglio un tris di frutta con la menta, con la erba, perché facciamo sempre queste cose. Quindi i bambini sono cresciuti così. Qui in Italia vedo che è più facile un pezzo di pizza bianca che una frutta, un succo. Specialmente la pizza romana è nota, è famosa, però non bisogna abusarne, specialmente da piccoli. Senti, tu sei molto attenta. Da quanto tempo vivi in Italia, mi hai detto? Da 18 anni. 18 anni. Adesso però il Brasile è uno dei paesi che sta veramente crescendo in modo esponenziale, che fanno parte dell'asse BRIC, quindi paesi che oramai possono vantare anche un incremento a livello di ricchezza importante e considerevole. I turisti brasiliani del resto sono tra i più ambiti. Abbiamo visto anche quest'anno gremire la fiera del tartufo bianco d'alba, erano ricercatissimi. Allora, dimmi, rispetto all'alimentazione, mi hai già spiegato, molta più attenzione a questo concetto della frutta. Tu come sei riuscita a cercare di intraprendere lo stesso percorso che c'è in Brasile e anche in Italia? Per esempio, oggi ci hai portato una delizia tropicale. In che cosa consiste? Raccontiamola. L'ingrediente dell'insalata? Guarda, ho cercato di mettere un po' di erba, perché la mentuccia è buonissima, il centriolo, la frutta e la verdura. Quindi il miele, il succo d'arancia, quindi ho fatto un mix di vitamine, diciamo. Ho creato senza sale, perché così è un po' agridolce. Anche le retenzioni liquide che abbiamo noi, una insalata molto leggera, fresca, e poi con questo caldo romano. Deve essere come questo. Non è vero che in Brasile fa caldo, ma è un caldo secco. E' un caldo secco. Poi abbiamo bisogno veramente di roba fresca e leggera. Senti, Paola, ma dove ti possiamo trovare quando non sei qui alla stampa estera? Toccurio. Lascerà scarietto curio in zona San Giovanni, via Lidia 40. Grazie, per chi non potrà degustare oggi ti verremo a trovare sicuramente. Grazie. Grazie.